C'è grande attesa a Giarre per vedere i gialloblu all'opera in vista del campionato che segna il ritorno del club di Via Olimpia in eccellenza. Il presidente Gianni Di Martino e il DS Luca Scuderi hanno per il momento interrotto il mercato in attesa di qualche saldo di fine stagione, possibilmente dopo Ferragosto. Intanto domani appuntamento alle ore 16 e si parte con una squadra che ricalca grossomodo quella della passata stagione con due soli veri innesti nell'undici titolare, Ivan Cordoma in difesa e Alfonso Benedettino a centrocampo. Innesti oculati e mirati per una squadra che deve dimostrare di assorbire senza patemi il salto di categoria. Domani però al regionale si inizierà a sgobbare e a sudare per costruire dall'inizio una stagione importante.